bella raga qua è savix vi parla bentornati in questo nuovo short guardate bene questo nuovo account ragazzi pc femmina primo slot rango 8.000 7 miliardi k di bagato ragazzi e 15 outfit tutti da porcelloni con le poppette di fuori non esitate a contattarmi il prezzo è di 30 euro ragazzi non trasferibile subito bisogna aspettare 30 giorni per trasferirlo su ps5 no ps4 ragazzi per xbox one invece giocabile immediatamente vi lascio a dimostrazione della fast run e alla prossima bella raga ciao ciao ciao